E bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui dal mondo di Minecraft di Stepney, bentornati qua dalla zona del parco acquatico che l'altra volta avevamo completato con questa bellissima piscina idromassaggio con tanto di lettini coperti per rilassarsi e prendere il sole, ma oggi cosa faremo? Faremo un'altra costruzione che riguarda sempre il parco dei divertimenti, ma che non sarà più parte del parco acquatico, perché questa zona la considero praticamente conclusa. E quello che voglio fare invece lo faremo da questa parte, perché in questa zona libera qua a fianco all'ingresso e sotto la montagna russa faremo una piccola ma bella pista di go-kart. Ok, ho dormito così ha anche smesso di piovere e adesso devo recuperare i materiali che ci serviranno oggi. Quello che faremo è fare la pista con le rotaie e i kart con i minekart, dato che questo è ancora l'unico modo che abbiamo per simulare un mezzo di trasporto. Ok, ho preso questa bella terracotta grigia perché la useremo per simulare il colore dell'asfalto, quindi metteremo questa sotto e le rotaie sopra, così sembrerà proprio una pista. Piazziamo qua sotto la torcia di redstone nascosta, poi piazziamo il blocco qua di terracotta e sopra un bel binario alimentato, perché questa sarà la nostra partenza. E naturalmente qua ho fatto due binari paralleli perché avremo due macchine che si sfidano. Adesso quello che facciamo è differenziare la direzione di questi binari perché non vogliamo che vadano sempre uno vicino all'altro. Quindi facciamo andare questo da questo lato e quest'altro invece lo facciamo andare dritto. Ok, qua adesso invece sto piazzando un po' di blocchi di legno perché quello che dobbiamo fare è un piccolo ponticello, così che questo binario possa andare su e superare questo piccolo buco che abbiamo nel terreno, mentre quest'altro binario potrebbe anche passarci sotto, così li facciamo anche un po' intersecare. Qua naturalmente piazziamo la nostra torcia di redstone che accende tutti i binari alimentati, così siamo sicuri che il nostro vagoncino supererà questa salita. Quest'altro invece, come abbiamo detto, lo mandiamo qua sotto, sfruttiamo la discesa e gli facciamo prendere un po' di velocità e nel frattempo lo facciamo passare qua sotto questo ponticello. Magari piazziamo anche una bella curva e adesso qua, dato che dobbiamo risalire, piazziamo qualche binario alimentato. Io però, lo sapete, sono un idiota e mi sono dimenticato di piazzare questi blocchi sotto, quindi adesso devo rifare tutto. E qua abbiamo un punto in cui i nostri binari tornano a ricollegarsi, ma qua le facciamo subito dividere di nuovo perché sennò potremmo avere appunto dei problemi e comunque vogliamo, come abbiamo detto, percorsi diversi. Adesso, dato che questo secondo binario è molto più lungo, gli faremo fare un giro qua che lo ricongiungerà poi alla parte finale del tracciato, mentre quest'altro farà un paio di curve qua centrali per cercare di far sì che il binario di destra e il binario di sinistra abbiano dei tempi di percorrenza simili. Ok, naturalmente gli facciamo fare un paio di curve e un paio di salite, però abbiamo praticamente finito. Qua nell'ultima parte magari gli facciamo prendere un bel po' di velocità e poi dovremmo essere a posto per arrivare sino all'arrivo. Fantastico, il nostro primo binario lo abbiamo completato adesso. Vediamo che giro possiamo far fare al secondo considerando anche che dovremmo mettere un altro ponticello, naturalmente, perché in questo momento, come vedete, qua siamo all'interno e invece poi dobbiamo arrivare all'esterno, quindi altro ponticello che ci sta sempre. O ancora meglio, sapete cosa voglio fare? Un piccolo tunnel sotterraneo che potremmo anche illuminare con qualche bella lanterna. Ok, io direi che possiamo far scendere la rotaia qua in questo punto in cui i blocchi sono pari, così passiamo precisamente in mezzo e così dovremmo essere a posto. Qua sotto naturalmente gli facciamo prendere un bel po' di velocità e con questa bella curva a gomito finale possiamo ricongiungerci. Adesso qua non ci manca che unire i pezzi e poi possiamo dire di aver concluso il tracciato. Ok, e così abbiamo completato il tracciato, adesso non ci manca che fare qualche piccola modifica in modo che il tutto diventi un po' più bello e realistico. E io comincerei con un grande classico e c'è una bella bandiera a scacchi alla partenza. Usiamo naturalmente i blocchi di lana bianca e di lana nera alternati e devo dire che il risultato è veramente veramente bello. E poi ragazzi che pista sarebbe senza cordoli, quindi alterniamo i tappetini di lana rossa e di lana bianca in modo da dare quella sensazione che fa veramente tanto pista di Formula 1. E che spettacolo di risultato ragazzi, sono veramente contentissimo di quello che siamo riusciti a fare. Magari come ultima cosa piazziamo anche qua una piccola protezione sul ponte e ultima cosa sostituiamo magari qua sotto nel tunnel i materiali delle pareti perché ok il primo strato di terra che poi è quello che si vede sopra, ma qua sotto magari utilizziamo dei bellissimi stone brick che abbiamo nell'inventario. E anzi vorrei cercare anche di dare una forma un pochino più tondeggiante a questo tunnel, quindi facciamo un primo strato qua. Dopodiché i due strati successivi li facciamo spostati di un blocco, così abbiamo anche spazio per piazzare qualche lanterna qua di lato senza rischiare di sbattere la testa. E adesso non ci resta che piazzare qua una cesta dentro cui terremo sempre un paio di minecart a portata di mano e poi possiamo testare la nostra bellissima, nuovissima pista di go-kart. Partiti! Wow! Il ponticello devo dire è bellissimo e anche questi cordoli ragazzi sono fantastici. Ecco il passaggio nel tunnel e siamo arrivati circa una decina di secondi. perfetto. E adesso vediamo con il secondo carrello quanto ci mettiamo. Ok saliamo da questa parte, siamo all'esterno del tracciato e anche con questo più o meno 10 secondi, forse un pochino di più. Diciamo che questa è la parte più lenta però ci può andare bene. Alla fine tanto la build è più che altro estetica, non penso mai che faremo delle gare. E niente, qui con la pista di go-kart che abbiamo costruito nel mondo di minecraft vita di Stepney, io vi saluto. Vi ringrazio come assoluto per aver messo il video fino alla fine. Vi invito a lasciare like, commentare, condividere, soprattutto iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi episodi che faremo in questo bellissimo mondo. In descrizione come al solito c'è il mio link Instagram, manmax.tv e il link per scaricarvi il mondo di minecraft vita di Stepney, così se volete potete farmi vedere cosa costruite voi in questo mondo. E niente, io vi saluto, bella! Iscrivetevi! Non vi siete ancora iscritti? Iscrivetevi!